Londra è piena di luoghi in cui imbattersi quando non li stai cercando. Hampstead Heath è il mio rifugio. Mi piace andarci a passeggio nel mattino. Adoro il profumo dei fiori e dell'erba tagliata di fresco. Sono arrivata a Londra insieme al mio ragazzo circa quattro anni fa. Ci siamo trasferiti da Parigi per lavoro, ma ho sempre avuto il desiderio di vivere e lavorare qui, migliorare il mio inglese e diventare una londinese. È una città davvero cosmopolita. Mi piace incontrare il mio ragazzo in un caffè, fare quattro chiacchiere e poi andare all'Hospital's Feed Market per ammirare tutta la quantità di articoli in esposizione. Adoro i mercati, il profumo del pane appena sfornato, i colori degli abiti vintage. C'è sempre qualcosa da fare. La domenica al mercato dei fiori di Columbia Road, l'esposizione floreale di Chelsea, una passeggiata romantica nel giardino botanico di Kew, un tè a Kensington Garden. Londra ha qualcosa da offrire a tutti. Questa è la mia Londra e non smette mai di farmi sorridere.